Sono in continuo aumento le iscrizioni ai nuovi corsi dell'Inexere Village, partiti a metà settembre. L'offerta è davvero ampia e si rivolge a tutti. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante attività proposte dall'istruttrice Marilena Tagliabue. Pilates, Pilates for Men, Total Body, Brucia Grassi, Spring Energy Evolution e Danza del Ventre. Questa è l'articolata offerta di Inexere per un autunno a tutto fitness. L'appuntamento è presso la sala corsi del centro sportivo di via Santa Margherita a Bizzarone, tutte le sere della settimana ed il venerdì mattina. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per avere ulteriori informazioni su tipologie delle attività, orari e costi, si può contattare l'infoline Inexere al numero 031 80 3116 oppure mandare un'email all'indirizzo comunicazione-inexere.it. Le immagini sono tratte dalla prima lezione del corso di Pilates. Marilena, sono partiti i corsi all'Inexere Village. Allora, dici un po' quali sono i corsi e qual è la differenza tra le varie attività. Allora, c'è il Pilates, che è un metodo di allungamento e tonificazione muscolare. Sono degli esercizi a tappeto, non c'è lavoro aerobico e si fanno associate alla respirazione. Lavora sulla fascia addominale, lombare e glutei, va a migliorare la postura, l'elasticità della colonna, andando comunque a tonificare tutto il corpo. È molto bello perché si prende consapevolezza del proprio corpo. Poi c'è il Total Body, che sarebbe una lezione di tonificazione con una prima parte di lavoro aerobico, seguita poi da esercizi a terra, di glutei, addominali, gambe e anche esercizi per le braccia, quindi per la parte alta. Poi c'è la lezione di Spring Energy, quindi una lezione coreografica fatta con lo spring, che sarebbe lo step molleggiato, che è bello perché comunque risulta divertente. E dopo c'è la lezione di Brucciagrassi, che è come sempre una lezione di tonificazione, fatta comunque con la prima parte, fatta con lo spring, quindi risulta più intensa a livello aerobico. E dopo, seguita sempre da una parte a terra, gli esercizi di glutei, addominali, gambe e braccia. Ma come sono andati questi primi giorni di lezioni? Molto bene, c'è stata un'ottima risposta, sia per quanto riguarda il Pilates, sia per gli altri corsi. Anche lo spring ha riscosso un grande successo e io sono contenta di questa cosa. E le allieve come hanno risposto? Sono preparate? Sono contente, si impegnano e hanno intenzione di continuare. Sono volenterose. Perché ha scelto di iniziare un corso di Pilates? Perché mi hanno detto che è divertente, poi perché ho problemi di schiena e hanno detto che per la schiena è vantaggioso, risolve tanti corrimi. Ho scelto di fare questa disciplina per imparare a mantenere bene la postura della schiena e per smaltire un po' la pancetta. L'istruttrice è stata chiara? Faticissima, chiara e molto scrupolosa nel migliorare la postura.